Clicca su uno dei rettangoli per vedere l'animazione corrispondente Il farmaco serve da precursore Alcuni precursori di neurotrasmettitori possono essere somministrati con i farmaci Le molecole dei precursori sono convertite da un enzima del neurotrasmettitore con un conseguente accumulo di elevate concentrazioni di neurotrasmettitore nelle vescicole sinaptiche Quando l'assone scarica, viene rilasciata una quantità maggiore di neurotrasmettitore Osserviamo in che modo l'enzima converte una molecola di precursore in una molecola di neurotrasmettitore Adesso vedremo la normale operazione di conversione enzimatica da una molecola di precursore a una molecola di neurotrasmettitore Non sono stati aggiunti altri precursori Vediamo cosa accade dopo la somministrazione di una dose di precursore Il numero delle molecole di precursore aumenta e di conseguenza vengono prodotte molte più molecole di neurotrasmettitore Quando l'assone scarica, il bottone terminale rilascerà una quantità più elevata di neurotrasmettitore che indurrà potenziali postsinaptici maggiori nei neuroni postsinaptici L'esempio più importante dell'uso di un precursore come farmaco è l'L-Dopa L'L-Dopa si somministra agli individui affetti da morbo di Parkinson in cui si verifica la degenerazione della maggioranza dei neuroni dopaminergici del sistema nigrostriatale Le molecole additive di L-Dopa sono convertite da un enzima Dopa-decarbossilasi in molecole di dopamina Perciò i pochi neuroni dopaminergici e superstiti rilasciano una quantità più elevata di dopamina il che allevia i sintomi della malattia Clicca su uno dei rettangoli per vedere l'animazione corrispondente Il farmaco inattiva l'enzima di sintesi Ecco la molecola di un enzima responsabile della sintesi di un neurotrasmettitore La molecola di un farmaco si è attaccata all'enzima di sintesi Questo farmaco disattiva l'enzima e gli impedisce di convertire il precursore in neurotrasmettitore Come vedrai, le molecole del precursore non sono convertite nel neurotrasmettitore I farmaci che inattivano l'enzima di sintesi sono utilizzati principalmente nella ricerca scientifica Per esempio, il PCPA si lega con l'enzima triptofanoidrossilasi e impedisce la conversione del triptofano in 5-idrossitriptofano 5-HTP Questo effetto blocca la sintesi di 5-idrossitriptamina, 5-HT, sostanza nota anche come serotonina Clicca su uno dei rettangoli per vedere l'animazione corrispondente Il farmaco impedisce l'immagazzinamento del neurotrasmettitore nelle vescicole sinaptiche Le vescicole sinaptiche si riempiono di molecole di neurotrasmettitore grazie all'azione delle molecole di trasporto localizzate nella membrana La concentrazione di neurotrasmettitore all'interno delle vescicole può essere fino a mille volte superiore alla concentrazione citoplasmatica Osserviamo l'azione di questi trasportatori quando una vescicola sinaptica si riempie di molecole di neurotrasmettitore Adesso vediamo gli effetti della reserpina un farmaco che blocca la ricaptazione delle monoamine nelle vescicole sinaptiche Le monoamine includono dopamina, norepinefrina e serotonina La reserpina si attacca alle molecole di trasporto localizzate nella membrana delle vescicole sinaptiche e le disattiva Di conseguenza poche molecole di neurotrasmettitore riescono ad entrare nelle vescicole Come vedi la reserpina agisce da antagonista monoaminergico Interferendo con la ricaptazione delle monoamine nelle vescicole sinaptiche la reserpina agisce da antagonista Questo farmaco è stato utilizzato nel trattamento dell'ipertensione elevata pressione arteriosa ma a causa dei suoi possibili effetti collaterali gravi generalmente si preferisce somministrare altri farmaci La reserpina può produrre depressione fenomeno discusso in un capitolo successivo Clicca su uno dei rettangoli per vedere l'animazione corrispondente Il farmaco stimola il rilascio di neurotrasmettitore La sequenza di animazione intitolata sinapsi descrive il meccanismo di rilascio di un neurotrasmettitore Rivediamo in sintesi il processo Un potenziale d'azione si avvicina Frecce rosse I canali voltaggio dipendenti per il calcio si aprono Il calcio, frecce verdi, entra nel bottone terminale e si lega ai cluster di proteine che attaccano le vescicole sinaptiche alla membrana presinaptica Questo evento induce le vescicole a rilasciare il neurotrasmettitore in esse contenuto Concentriamoci su una singola vescicola sinaptica per vedere cosa succede in seguito Le vescicole sinaptiche agganciate si fondono con la membrana presinaptica e rilasciano il neurotrasmettitore quando gli ioni calcio entrano e attivano il cluster di proteine che costituisce il poro di fusione Il veleno del ragno vedova nera attiva queste proteine direttamente e causa il rilascio costante di neurotrasmettitore a livello delle sinapsi acetilcolinergiche Qui sotto puoi vedere una molecola di veleno del ragno vedova nera Come hai visto, i farmaci che inattivano gli autorecettori presinaptici agiscono da agonisti Per esempio, la clonidina blocca gli autorecettori noradrenergici e di conseguenza aumenta la trasmissione a livello delle sinapsi noradrenergiche Clicca su uno dei rettangoli per vedere l'animazione corrispondente Il farmaco inibisce il rilascio di neurotrasmettitore Adesso una molecola di tossina botulinica è attaccata al cluster di proteine di una vescicola sinaptica agganciata Quando arriva un potenziale d'azione e gli ioni calcio entrano nel bottone terminale la vescicola non risponde non rilascia il neurotrasmettitore nella fessura sinaptica La tossina botulinica è uno dei più potenti veleni conosciuti Una quantità minima di questa tossina causa la paralisi totale e la morte per soffocamento della vittima Comunque, se un individuo affetto da botulismo viene immediatamente attaccato a un respiratore ed è seguito con cure infermieristiche adeguate quasi certamente riesce a sopravvivere Clicca su uno dei rettangoli per vedere l'animazione corrispondente Il farmaco stimola i recettori post-sinaptici Sicuramente riconoscerai la prossima immagine Si tratta dell'illustrazione schematica di una sinapsi che appare nel capitolo 2 del tuo libro di testo Nella fessura sinaptica sono presenti diverse molecole di farmaco Alcune si sono legate con i recettori post-sinaptici e hanno aperto i loro canali ionici Il rilascio del neurotrasmettitore apre ulteriori canali ionici Come vedi, la somministrazione di un farmaco che stimola i recettori post-sinaptici serve da agonista Le due sostanze che hanno dato il proprio nome ai due tipi di recettore per l'acetilcolina, la nicotina e la muscarina funzionano in questo modo Clicca su uno dei rettangoli per vedere l'animazione corrispondente Il farmaco blocca i recettori post-sinaptici Sicuramente riconoscerai la prossima immagine Si tratta dell'illustrazione schematica di una sinapsi che appare nel capitolo 2 del tuo libro di testo L'hai vista anche nella sequenza di animazione precedente Nella fessura sinaptica sono presenti diverse molecole di farmaco Alcune si sono attaccate ai recettori post-sinaptici ma non hanno aperto i canali ionici Di conseguenza, il farmaco impedisce alle molecole di neurotrasmettitore di attaccarsi ai siti di legame e aprire i legami ionici Il rilascio del neurotrasmettitore apre soltanto pochi canali ionici Quelli i cui siti di legame sono bloccati dal farmaco non si possono aprire Come vedi, la somministrazione di un farmaco che si lega con i recettori post-sinaptici ma non apre i canali ionici serve da antagonista Il farmaco riduce il numero di recettori post-sinaptici che il loro trasmettitore riesce ad aprire Questo tipo di farmaco è denominato bloccante del recettore o antagonista diretto L'atropina blocca i recettori muscarinici mentre il curaro blocca i recettori nicotinici Alcuni bloccanti del recettore hanno un uso terapeutico Per esempio, i bloccanti del recettore dopaminergico servono a trattare i sintomi della schizofrenia Molti altri sono utilizzati dai neuroscienziati a scopi di ricerca Clicca su uno dei rettangoli per vedere l'animazione corrispondente Il farmaco stimola gli autorecettori Inibisce la sintesi, il rilascio di neurotrasmettitore Gli autorecettori rilevano la presenza di un particolare neurotrasmettitore nella fessura sinaptica Quando una molecola di neurotrasmettitore si attacca al sito di legame l'autorecettore invia un segnale chimico al bottone terminale che inibisce l'ulteriore produzione e diffusione del neurotrasmettitore Questo sistema di regolazione impedisce al bottone terminale di rilasciare una quantità eccessiva di neurotrasmettitore Guardiamo una coppia di autorecettori in azione Nella fessura sinaptica sono presenti solo poche molecole di neurotrasmettitore Quindi, per la maggior parte del tempo, gli autorecettori sono disoccupati e inattivi Adesso vedrai gli effetti di un farmaco che si lega con gli autorecettori e li attiva Il farmaco inibisce la produzione e il rilascio del neurotrasmettitore agendo quindi da antagonista A piccole dosi, l'apomorfina stimola gli autorecettori dopaminergici e di conseguenza agisce da antagonista inibendo la produzione e il rilascio di dopamina A dosi elevate, l'apomorfina stimola anche i recettori dopaminergici post-sinaptici In questo caso, agisce da agonista Clicca su uno dei rettangoli per vedere l'animazione corrispondente Il farmaco blocca gli autorecettori Aumenta la sintesi il rilascio di neurotrasmettitore Come abbiamo visto nella sequenza precedente gli autorecettori rilevano la presenza di un particolare neurotrasmettitore nella fessura sinaptica Quando una molecola di neurotrasmettitore si attacca al sito di legame l'autorecettore invia un segnale chimico al bottone terminale che inibisce l'ulteriore produzione e diffusione del neurotrasmettitore Questo sistema di regolazione impedisce al bottone terminale di rilasciare una quantità eccessiva di neurotrasmettitore Osserviamo una coppia di autorecettori in azione Di tanto in tanto, una molecola di neurotrasmettitore attiva un autorecettore che segnala al bottone terminale di ridurre la produzione e il rilascio di neurotrasmettitore Ora vedremo gli effetti di un farmaco che blocca gli autorecettori Il farmaco impedisce l'invio del segnale inibitorio al bottone terminale e di conseguenza la produzione e il rilascio del neurotrasmettitore aumentano Come abbiamo visto, i farmaci che bloccano gli autorecettori presinaptici agiscono da agonisti Per esempio, la clonidina blocca gli autorecettori noradrenergici e perciò aumenta la trasmissione a livello delle sinapsi noradrenergiche Clicca su uno dei rettangoli per vedere l'animazione corrispondente Il farmaco blocca la ricaptazione Dopo il rilascio di un neurotrasmettitore le sue molecole tornano nel bottone terminale grazie all'azione dei trasportatori La fessura sinaptica viene presto liberata dalle molecole di neurotrasmettitore in che termina il potenziale postsinaptico Osserviamo insieme questo fenomeno Come puoi vedere, il trasportatore rimuove il neurotrasmettitore dalla fessura sinaptica terminando di conseguenza il potenziale postsinaptico L'immagine mostra un solo trasportatore ma il bottone terminale ne contiene moltissimi Essi recuperano velocemente le molecole di neurotrasmettitore dalla fessura sinaptica Ora vediamo cosa succede quando un farmaco interferisce con la procedura di ricaptazione Il trasportatore sarà bloccato da una molecola del farmaco e il neurotrasmettitore resterà nella fessura sinaptica per un periodo molto più lungo Di conseguenza, il potenziale postsinaptico risulterà prolungato Una molecola del farmaco si è attaccata al trasportatore bloccando la ricaptazione del neurotrasmettitore Nota che tutti i recettori postsinaptici sono attivati Un farmaco che blocca la ricaptazione prolunga i potenziali postsinaptici di conseguenza serve da agonista Una delle sostanze più conosciute appartenenti a questa categoria è la cocaina che inattiva i trasportatori della dopamina Clicca su uno dei rettangoli per vedere l'animazione corrispondente Il farmaco inattiva l'acetilcolinesterasi In questa sezione studieremo gli effetti di un farmaco che inattiva l'acetilcolinesterasi, ACHE l'enzima presente nella membrana postsinaptica delle sinapsi acetilcolinergiche In primo luogo, osserveremo le molecole di acetilcolinesterasi che distruggono le molecole di acetilcolina, ACH rilasciate dal bottone terminale Ecco una molecola di acetilcolina con i suoi due componenti la colina e l'acetato Vediamo cosa fa l'acetilcolinesterasi Adesso osserviamo l'azione dell'acetilcolinesterasi a livello di una sinapsi Le molecole di acetilcolina sono state distrutte dall'attività dell'acetilcolinesterasi Il farmaco impedisce la distruzione dell'acetilcolina e mantiene attivi i recettori postsinaptici per un periodo di tempo più lungo Poiché il farmaco ha inattivato le molecole di acetilcolinesterasi nella membrana postsinaptica le molecole di acetilcolina rilasciate dal bottone terminale restano intatte Alcune di esse si legano con i recettori postsinaptici e aprono i canali ionici con un conseguente prolungamento del potenziale postsinaptico La fisostigmina, un farmaco che inattiva l'acetilcolinesterasi è un potente agonista dell'acetilcolina Come hai appreso nel capitolo 4 del libro di testo i farmaci che inattivano l'acetilcolinesterasi si utilizzano per diagnosticare e trattare la miastenia grave una malattia in cui il sistema immunitario dell'organismo attacca e distrugge i recettori acetilcolinergici nicotinici localizzati sulle fibre muscolari Clicca su uno dei rettangoli per vedere l'animazione corrispondente